Primo weekend senza gran parte dei lavori che c'erano stati fino ai giorni scorsi nel tratto abruzzese dell'A14. Siamo con il sindaco Di Silvis Cordella. Sindaco, allora qual è la situazione oggi e se veramente, insomma anche dal punto di vista del traffico, state già notando in queste primissime ore una situazione migliore? Sicuramente oggi è il banco di prova per vedere la viabilità sull'A14. Oggi stiamo monitorando un pochino i flussi di traffico. Sicuramente per il momento non ci sono grandi problemi. Aspetteremo le ore centrali e soprattutto verso la sera dove i tanti turisti che hanno affollato le spiagge, penso insomma avremo qualche problemino. Però stiamo monitorando, aspettiamo di vedere la giornata come vuole. Sappiamo che questi lavori dovranno continuare fino alla metà di luglio e dunque sospendere almeno nel weekend da una boccata d'ossigeno alle città costiere, al turismo e soprattutto ai tanti cittadini che si mettono in marcia negli weekend. La strada alle 16 resta però una strada di per sé con percorribilità molto intensa in alcune ore della giornata. Sì, è sempre il solito appello. Lì va presa una situazione sicuramente strutturale che a seguito della nostra richiesta di portare la famosa variante 16 su un tratto che ormai è congestionato e dunque stiamo spingendo e stiamo cercando veramente di ottenere quel risultato di un anello di congiunzione tra l'assatrezzato e la circonvaliazione dell'area metropolitana e il nostro tratto che ormai è saturo da questo traffico. Grazie a tutti.